Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? La foto da quando Jennifer Aniston si è separata da Justin Teru, molti hanno cominciato a sognare un ritorno di fiamma tra l'attrice e l'ex marito Brad Pitt. Quest'ultimo, come è noto, ha chiuso nel 2016 il suo lungo matrimonio con Angelina Jolie. Ebbene, il sogno di alcuni fan sembra essersi realizzato, Brad e Jennifer sono stati beccati dai paparazzi di star mentre si sfiorano le labbra, intenti a darsi un bacio. Sono dunque tornati insieme? A quanto pare non è proprio così. L'entourage della Aniston ha fatto sapere che lo scatto è stato manipolato e che risale addirittura ai primi anni 2000, quando i due divi di Hollywood erano ancora sposati. Dunque, uno scoop falso? Non è chiaro, perché la rivista che ha pubblicato al foto insiste nel sostenere che Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono riavvicinati nell'ultimo periodo grazie ad un amico in comune, George Clooney. Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme grazie a George Clooney? Secondo quello che scrive Stark ha pubblico la foto del presunto bacio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston i due si sarebbero riavvicinati grazie a George Clooney, amico di entrambi da tempo. Il marito di Amala Lamuddin avrebbe convinto i due a riavvicinarsi dopo aver cercato l'amore in altre persone e avrebbe addirittura organizzato un incontro segreto tra gli ex coniugi qualche giorno prima della cerimonia per gli Oscar. Sarà vero? Chissà, per il momento è certo che Brad e Jen hanno mantenuto un buon rapporto. Ad oggi sono ancora molto legati e di frequente si sentono per consigli e suggerimenti. Tra una confidenza e un'altra riesploderà la «Angelina Jolie» a un nuovo fidanzato dopo Brad Pitt. Intanto pare che anche Angelina Jolie abbia già voltato pagina. Il premio Oscar è stata avvistata in compagnia di Garrett Edland, attore ed ex fidanzato di Kristen Dunst. Edland conosce bene Brad Pitt, nel 2004 hanno recitato insieme nel film Troy. Edland conosce bene Brad Pitt, nel 2004 hanno recitato insieme nel film Troy.